Da tre mesi era ospitato al Cenacolo di Montegalda, una casa per sacerdoti dove è stato assistito. Martedì avrebbe compiuto 84 anni, ma lunedì il suo cuore ha smesso di battere. Oggi pomeriggio è il funerale nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina, paese dove era nato ed era tornato a vivere dopo il suo ritiro dal Ministero del Sacerdozio. A presiedere la messa il vicario generale Monsignor Giuliano Zatti. Don Lorenzo era fratello di Don Marcello Salesiano e di Monsignor Luciano Giarci Prete di Este. Don Lorenzo fu ordinato prete nel 1958, svolse il Ministero a Dolo, Albignasego, San Bruson e Murelle di Villanova.